Grazie, buonasera a tutti. Un attimo solo che volevo salutare e ringraziare, io sono Kadashari Masi, ho venuto a ringraziarvi e a salutarvi di essere qui con noi. Volevo ringraziare e salutare tutta questa fantastica squadra che ha lavorato per 5 anni ininterrottamente sotto una guida, bisogna dire la verità, fantastica, un suo leader incredibile, unico, che ci ha spronato, ci ha fatto fare tutto ciò che c'era da fare senza faticare. Non abbiamo sentito la fatica, abbiamo sentito solo la volontà e la voglia di fare. Ci siamo dimenticati che gli altri hanno fatto anche l'invilletta a schiera a 100 metri ormai. Ci sono sanno dimenticati. No, a parte di scherzi era una battuta questa cosa, però volevo veramente rinfrescare l'idea a tutti perché lui è un grandissimo sindaco, è stato un grandissimo uomo, un grandissimo compagno di viaggio perché abbiamo fatto questi 5 anni incredibili, increscendo, siamo partiti da avere un'alerici distrutta, siamo arrivati ad avere un'alerici che possiamo vedere tutti insieme e abbiamo sotto gli occhi. Adesso abbiamo fatto, questo mi preme dirlo, una campagna elettorale onesta. L'abbiamo fatto onestissima. Abbiamo parlato di noi, dei nostri progetti e degli altri non l'abbiamo parlato perché degli altri a noi non interessa, interessa quello che faremo noi per i cittadini nei prossimi 5 anni. Quindi grazie a voi, grazie al sindaco e grazie a tutti. Grazie. Grazie.